La cocaina viaggiava tra Emilia Romagna e Veneto, abilmente nascosta nel vano portaoggetti e addirittura in fondi ricavati nei fanali posteriori dell'auto. Nel corso del blitz, compiuto venerdì scorso a Bosaro, la squadra mobile di Rovigo ha sequestrato due involucri con all'interno un chilo ciascuno di droga, una piccola quantità di marijuana, 17 mila euro in contanti. Un'operazione nata dal controllo di un'auto sospetta, seguita per alcuni chilometri dai poliziotti e poi bloccata nei pressi di un garage nel comune polesano. Immediato l'arresto per le due persone a bordo, entrambi cittadini albanesi, ma la vera sorpresa è arrivata dalla perquisizione nella loro abitazione a Reggio Emilia. Qui gli agenti hanno sequestrato altri 39 panetti di cocaina per un totale di oltre 43 chilogrammi, oltre a 390 mila euro in contanti, in banconote da 50 e 100 euro. Oltre ai due albanesi è arrestata anche la compagna di uno dei due, una donna di origine moldava. Era una banda che operava con quantitativi ingenti di sostanze sufficienti e anche la dimostrazione del denaro che è stato sequestrato, quasi 400 mila euro, è la dimostrazione che avevano un giro notevole di affari. Quello individuato a Reggio Emilia è una sorta di hub interregionale dello spaccio di cocaina. Le indagini continuano per capire a chi fosse destinata la droga.